Giovani italiani emigrati all'estero. La provincia di Avellinio è al decimo posto in Italia in termini percentuali calcolati sul totale della popolazione under 30. In base alle statistiche diffuse dall'Istat, la nostra provincia è tra le più colpite dalla fuga di cervelli, 27.223 che corrispondono al 23,5%. Il dato sull'emigrazione dall'Italia torna ad essere allarmante. Negli ultimi nove anni oltre 80.000 giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato il nostro paese. La principale motivazione è dettata da ragioni economiche e lavorative. I nostri giovani si trasferiscono per la maggior parte in Europa ma c'è anche chi sceglie l'America o il continente asiatico. Sempre secondo l'Istat i tassi di immigrazione e immigrazione sono più elevati sia tra chi ne ha una alta come la laurea mentre sembrano essere inferiori per i diplomati. L'emorragia di cervelli aumenta in particolar modo nelle zone interne con i giovani che abbandonano la propria terra per cercare forse un'altrove. È un contesto purtroppo noto a tutti soprattutto a chi dovrebbe impegnarsi per evitare un'ulteriore fuga di cervelli e forza lavoro. Il tutto per l'incapacità di offrire prospettive di crescita professionale alle nuove generazioni anche ai giovani meglio istruiti.